Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 24 settembre. Grazie a tutti quelli che ieri si sono collegati per Quarta Repubblica, abbiamo avuto un sacco di ascolti, sono sempre molto soddisfatto e vi ringrazio a tutti quanti voi. Cosa è successo oggi sui giornali? Se avete visto Quarta Repubblica, l'avete già capito probabilmente da ieri, che il tema fondamentale è questo grande incontro che è avvenuto a Malta. I giornali lì si dividono in due categorie. I giornali che dicono che ieri finalmente è cambiato tutto a Malta. E i giornali che invece dicono che dopo Malta verremo invasi dai migranti. Ciao Michele, Giada, Francesco, vedo che anche tanti altri amici, Carlotta, sono arrivati su Instagram. 00C00C, chissà mai chi sarà. Susanna, buongiorno, ti vedo qua. E Barbara, buongiorno anche a te su Facebook. Allora, cosa è successo? Leggiamolo attraverso i titoli dei giornali. Corriere della Sera, Migranti, primo patto europeo. Allora, voi potete pensarla come vi pare, ma non è vero, è falso. Non è vero che Migranti, primo patto europeo, sia un titolo fattualmente corretto. È una minchiata. Non è vero, è falso. È equivalente al titolo del giornale, sbarcheranno tutti. Nel senso che il titolo del giornale sbarcheranno tutti. Qualcuno potrebbe ridicolizzarlo. Ah, il solito giornale di destraccia. Ma fa, scusatemi, una previsione che vedremo se verrà realizzata. Pensano che sbarcheranno tutti. E quindi può essere, diciamo, nel futuro potrebbe essere smentita. Ma Migranti, primo patto europeo, come titolo del Corriere della Sera, è smentito oggi. E ve lo dico per due motivi molto semplici. Primo, non è un patto europeo, perché questo patto, scusatemi, riguarda soltanto quattro paesi. Quattro, Italia, Malta, Francia e Germania, che si sono riunite ieri con i loro ministri degli interni a Malta. Il patto verrà, semmai verrà ratificato, sarà l'8 ottobre. Quindi possiamo dire primo patto a quattro, non primo patto europeo. Quindi primo patto europeo è una stronzata megagalattica che vale, ripeto, il titolo, sbarcheranno tutti del giornale. Poi dicono, primo patto. Allora uno dice, cavolo, hanno ragione, prima non c'era mai stato un patto. Anche questo è falso. Sulle Migranti, l'Europa ne avrà fatti decine di patti. Avrà fatto decine di accordi. Le missioni militari Sofia, Mare Nostrum, come vi ricorderete. Saluto Giordano, saluto Olivia. Ma soprattutto, io vi ricorderei, l'ho ricordato ieri, quando Barroso venne a Lampedusa, insieme ad Alfano, Enrico Letta, e fecero il patto poco dopo per la redistribuzione in Europa di 40.000 migranti arrivati in Italia. Quanti ne sono stati redistribuiti? Praticamente nessuno. Quindi il titolo del Corriere della Sera, Migranti, primo patto europeo, è falso. Non è il primo patto, ne hanno fatti tanti altri. Non è europeo perché erano soltanto in quattro. Questo lo capisce anche un bambino. Volete che faccia un disegnino? Primo patto europeo. Minchiata. Molto meglio il titolo, anche quello orientato di Repubblica, ma che almeno non scrive stronzate. L'Europa si è desta. Perché l'Europa si è desta? Vale come il titolo del giornale. Verremo invasi tutti. Ovviamente loro pensano che l'Europa invece si sia desta, mentre il giornale pensa che l'Europa ci abbia fregato. Ma sono due titoli di opinioni. Non fanno i paraculetti per cui sembrano fattuali. Non c'è nulla di fattuale. Non è il primo patto europeo. E entriamo poi nel contenuto di questo patto. Perché questo patto, secondo il giornale, è un patto tutto da rivedere? Perché intanto, scrive Sallusti, soltanto coloro che vengono salvati in mare potranno eventualmente venire redistribuiti. Sapete su cento profughi quanti vengono salvati dalle ONG e dalle navi militari? Sì e no, nove. Il che vuol dire che su cento che arrivano in Italia solo nove potranno essere redistribuiti. Peraltro potranno essere questi nove redistribuiti solo su base volontaria. Cioè i paesi europei dovranno mettersi d'accordo per redistribuire. Se io vado a vedere cosa hanno fatto i paesi europei nei mesi scorsi col cavolo che se li prendono. Spero che effettivamente abbia ragione la Repubblica che l'Europa si è destra. Io devo pensare bene, voglio pensare bene, ma anche se penso bene, penso che questo problema ieri a Malta riguardi solo il 10% di tutti coloro che sbarcano in Italia. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, dicono c'è la rotazione dei porti. Toc toc. Ma secondo voi, se ieri Francia e Germania avessero voluto fare la rotazione dei porti sempre su base volontaria, non sarebbe stato più fico per la Morgese uscire in conferenza stampa e dire ho fatto l'accordo con la Francia e la Francia e la Grecia e la Spagna hanno deciso ogni tanto di prendersi i loro migranti direttamente invece che prenderli in Italia, a Lampedusa, a Messina, a Reggio Calabria, dove arrivano? Non l'ha potuto dire, perché ieri i francesi col cavolo che hanno accettato di aprire i loro porti, col cavolo che fanno passare i migranti dall'Italia a Ventimiglia e col cavolo apriranno i loro porti, ne apriranno uno ogni tanto per dare il segnale di aver fatto qualcosa perché il punto fondamentale, ieri è stato fatto tutto questo grande impalcatura per permettere ai giornali di dire, a Conte di dire, al Corsera se non si litica, si ottiene oppure Conte al fatto abbiamo fatto di più in un giorno a Malta che in un anno con Salvini cioè stiamo semplicemente seppellendo Salvini vi può stare simpatico, antipatico è indifferente ma se c'è una cosa che invece è differente è che in un anno cioè in più di un anno da Minniti a Salvini sono crollati del 95% gli arrivi con i Barchini e con le NG in Italia dopo questo patto almeno nei giorni di questo patto stanno salendo così sono tutte cazzate mi auguro mi auguro che questo patto serva perché a me di Salvini, di Conte, dell'ONU non me ne fotte nulla quello che mi fotte è che non arrivino migranti oltre un limite accettabile in un paese già al collasso come il nostro da un punto di vista economico vedremo fra due mesi, fra tre mesi però ricordatevi questi titoli migranti primo patto europeo di Corriere della Sera e poi Conte al Corsera se non si urla si ottiene vediamo cosa otterremo già l'8 settembre Tito su Repubblica prima lezione al Salvini grande sconfitto di questo patto staremo a vedere se Salvini è un grande sconfitto se diminuiranno gli immigrati e se li prenderanno il resto dell'Europa tutti questi titoli hanno ragione tranne quello del Corriere perché non è il primo patto può essere europeo ma potrebbe essere il primo patto semi-europeo che diventerà europeo e che avrà successo se dovesse aver successo l'altro grande tema di giornata è questa Greta Thunberg all'ONU i giornali sono non riesco a farlo avete presente? mi sto sdraiando anzi mi sto mettendo in maniera come possiamo dire di preghiera mi sto inchinando i giornali sono inchinati a questa deficiente si può dire? posso dirlo? di Greta Thunberg oggi ho letto sul Repubblica il suo pezzo in cui ieri all'ONU e qualcuno dovrebbe alzarsi e dire Greta Thunberg io non l'ho letto sul giornale lo vorrei fare se qualcuno mi ospita sul giornale lo chiedo al giornale quando Greta Thunberg davanti agli uomini più potenti del mondo dice loro cos'è che dice loro? avete rubato i miei sogni? noi dovremmo dire cara Greta Thunberg noi avremmo forse rubato i tuoi sogni io non lo so ma i sogni di una ragazzina della tua età 16 anni di un secolo fa è che all'ONU non esisteva la società delle nazioni è nata nel 19 i sogni di una ragazzina di un secolo fa era vivere 40-45 anni e non 85 come te i sogni di una ragazzina di 100 anni fa erano morire nella guerra perché ce ne erano due i sogni delle ragazzine di 100 anni fa non era quello di sentirsi via videoconferenza con i propri genitori in tutto il mondo i sogni delle ragazzine di 100 anni fa non era quello di spostarsi in giro per il mondo i sogni delle ragazzine di 100 anni fa non era quello di lavorare di avere una famiglia di poter avere una tu ti rendi conto che cosa ci hanno portato 100 anni di capitalismo cosa ci hanno portato 100 anni di quello che tu definisci inquinamento tu hai dei sogni e puoi lamentarti di non avere dei sogni proprio perché te l'abbiamo regalati noi non io che non conto assolutamente niente ma questa civiltà capitalistica in 100 anni ma come cazzo ti permetti di dire che ti abbiamo rubato i sogni ma chi sei tu per dire che ti abbiamo rubato i sogni una ragazzina di 16 anni nel 1919 non aveva nessuno lontanamente paragonabile sogno che c'è sta cretina che con la nave di Pier Casiraghi si presenta all'ONU poi la nave di Pier Casiraghi verrà presa da due persone che sono pagate da Pier Casiraghi che ha fatto Monte Carlo cazzo Monte Carlo che 100 anni fa Proust ce la ridiscuteva andava a Balbeck capito non a Monte Carlo e Greta mi avete tolto i sogni i sogni i sogni una tua eomologa 100 anni fa neanche li aveva a 5 anni perché non aveva diritto di sognare se non avesse uccisa la guerra che c'era 100 anni fa e che per 100 anni non c'è stata ma comunque i giornali la tutti così nasce una leader il suo intervento totale a Repubblica il foglio per fortuna è l'unico che oggi insieme ad altri giornali fa proprio una spata fiata da Capone a tutti gli altri che cercano di mettere in riga queste follie dell'ambientalismo diciamo che dobbiamo salvare come dice Cerasa dagli ambientalisti e nel frattempo dobbiamo salvarle dal nostro ministro dell'istituzione il nostro ministro dell'istituzione ce lo dice Valenzise Lombardo e Borgonovo un genio sapete che cosa fa? venerdì sono giustificati tutti i bambini che non vanno a scuola per fare le manifestazioni ambientaliste allora dico io ma se tu pensi veramente che il mondo sta morendo e se tu pensi veramente che il mondo è in questa catastrofe studiate 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 cercate di fare gli ingegneri cercate di fare i fisici cercate di fare i giornalisti che ci convinceranno in italiano in inglese in francese che il mondo sta morendo ma che cazzo fate in mezzo alle piazze con i vostri iphone che consumano cento volte di più di quelle bottigliette di plastica che voi non volete ma che cavolo di senso e di concetto può essere che un ministro della pubblica istituzione dà una giustificazione collettiva un todos caballeros della minchia degli anni settanta per gli studenti che venerdì faranno i cavoli loro e andranno in piazza io non lo so sì Greta dovrebbe andare in indiancina a parlare di queste cose sono assolutamente d'accordo con uno di voi tassa sulle merendine qui il fatto quanto ci gode quando si parla di tasse dice tutto il mondo civile disincentiva con la leva fiscale l'uso di prodotti nocivi alla salute o inquinanti merendine sono nocivi alla salute cos'è che vorrei chiedere una lista agli amici etici del fatto di dirmi quali sono le cose che non sono nocivi alla salute così io so cosa potrebbe non essere tassato spiegatemelo io vorrei che mi si spiegasse cosa non è nocivo alla salute il chewing ma è nocivo alla salute le caramelle lo sono le banane e in che quantità le cose sono più o meno nocivi alla salute vogliamo veramente vivere in un mondo che mi spiega attraverso le tasse cosa è nocivo per la salute e cosa non lo è e peraltro lo decidono quelli del fatto la carne è nociva alla salute e il pesce no chi lo stabilisce quelli del fatto e quello che è nocivo lo dobbiamo tassare è una roba pazzesca da grande fratello intanto dice il messaggero con un pezzo di Luca Cifoni il decreto che farà il governo sugli evasioni fiscali abbasseranno le soglie di punibilità cioè se ti beccavano prima che avevi un'imposta evasa o presunta evasa o anche un errore non so di 50.000 euro ti facevano pagare tutto con gli interessi ma non andavi in galera adesso magari l'abbassano a 30 e quindi sopra 30 tu vai in galera c'è un piccolo dettaglio chi è che ha alzato le soglie di punibilità per l'evasione fiscale il governo Renzi e secondo me ha fatto benissimo perché non è con la galera che si risolve ma facendo pagare gli evasori cioè la cosa più importante per gli evasori sono i soldi però questa roba qui voglio capire come questo governo Renzi la potrà appoggiare devo dire la verità che Renzi ha appoggiato e ha disappoggiato talmente di tutto che magari farà anche questo bene Torino e Lione ha la faccia di tutti questi che non volevano fare il come si chiama il tunnel che non c'era non esisteva non hanno fatto ancora nulla il sole 24 ore oggi ma non è l'unico che ci fa vedere una bella foto nove chilometri con la fantastica favolosa stupenda non piacerà a Greta ma io godo quando vedo una trivella beh quella trivella che è riuscita a fare i nove chilometri del tunnel che vuol dire sviluppo vuol dire civiltà vuol dire poter muoversi vuol dire passare dal 1919 19 al 2019 al 2019 non attraverso Greta ma attraverso una trivella la trivella è il futuro Greta è semplicemente la nostalgia di un passato che grazie al cielo non ci sarà più questo comunque questa bella foto della trivella ve la beccate sul sole 24 ore oggi mi fa paura sentire dire che intenzione del governo incanalare in consumi Barbara sono totalmente d'accordo con te Orson ciao non ti ho visto la settimana scorsa ti vedo ora su Instagram e ti saluto va bene vi do un grande abbraccio e vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporo.it ciao